ciao bambini benvenuti ad un'altra lezione di storia oggi vi racconterò anzi vi leggerò una storia scritta da me che si intitola il signor tempo non dovete fare altro che chiudere gli occhi anzi aprire gli occhi per vedere i disegni che vi ho fatto ed ascoltare buon ascolto c'era una volta il signor tempo il signor tempo abitava in un palazzo grandissimo su una montagna così alta che quasi toccava il cielo il signor tempo era un vecchietto sempre allegro e metodico le sue giornate trascorrevano girando a zonzo per le grandi sale del palazzo ognuna delle quali conteneva orologi di ogni tipo orologi a molla a pendolo ad acqua i grandi orologi a forma di elefante inventati nelle isole d'oriente il lavoro del signor tempo era fare in modo che tutti gli orologi funzionassero perfettamente per questo li spolverava li oliava guardava gli ingrenaggi e li riempiva anche di complimenti il signor tempo tendeva le orecchie e sentiva tic tac tic tac tutti gli orologi del palazzo muovevano le loro lancette contemporaneamente il lavoro del signor tempo era molto importante perché gli uomini di tutto il mondo che vivevano in città o in campagna affidavano al signor tempo il loro da fare perché tutto funzionasse quando il sole sorgeva gli orologi del signor tempo davano tutti insieme il buongiorno agli uomini alle donne del mondo alcuni facevano dream alcuni facevano cucù cucù altri semplicemente tac così tutti sapevano quando andare al lavoro e i bambini sapevano quanto tempo durava la scuola e gli alberi gli animali sapevano quanto tempo durava l'estate e quando sarebbe arrivato l'inverno insomma grazie al lavoro del signor tempo e dei suoi orologi le settimane ritornavano partendo da lunedì i mesi passavano uno dopo l'altro e tutti i bambini festeggiavano la pasqua ed il natale e mentre le settimane e mesi ritornavano sempre allo stesso modo i bambini crescevano e quando le mamme li misuravano col metro era una grande festa per i centimetri conquistati quante cose nuove si imparavano col passare dei giorni una notte però accadde che l'orologio più grande e bello del signor tempo si fermò il signor tempo infatti aveva dimenticato di prendersene cura tutti gli altri orologi vedendo il loro amico fermarsi si misero anche essi a fare tic tac tic tac e cominciarono a chiedere grande orologio come stai grande orologio che è successo ahimè rispose il grande orologio i miei ingranaggi non hanno più olio e si sono fermati come faremo si disperavano gli orologi se non riprenderemo a funzionare tutti insieme domani non sorgerà il sole e il nostro buon padrone il signor tempo non si sveglierà come faremo si lamentava un altro se le sveglie non suoneranno i bambini non potranno andare a scuola mentre gli orologi si disperavano i papà le mamme i bambini del mondo continuavano a dormire e se qualcuno si svegliava vedendo che il sole non era sorto e la sveglia non aveva suonato ritornava a dormire nessuno saprà mai quanto tempo il mondo restò immobile quanto tempo i bambini restarono a letto senza fare niente di niente finalmente uno degli orologi del signor tempo ebbe un'idea si buttò giù dalla mensola e scoppì in testa il signor tempo che continuava a russare fragorosamente il signor tempo svegliandosi disse che ora è che ora è e tutti gli orologi risposero non lo sappiamo uno di noi si è fermato e tutto il tempo si è fermato il sole non è sorto le settimane non sono passate i bambini sono rimasti a casa nessuno sa cosa deve fare tutto il mondo è in gran subbuio le piante non crescono tutto è fermo il signor tempo quando capì la gravità della situazione corse subito ad aggiustare il grande orologio del tempo lo fece ripartire nell'ora esatta in cui il sole sorge e tutti fanno colazione fu così che si sentì un gran voci alzarsi delle città erano i bambini che ringraziavano il signor tempo per aver fatto muovere di nuovo gli orologi e per aver ridato al mondo i giorni e le settimane e i mesi e tutte le ore passate a giocare con gli amici questa storia insegna che il tempo è una cosa importante ci serve per capire quando sorge il sole quando tramonta quanto tempo durano le nostre azioni il tempo inoltre trasforma tutto facendoci crescere e cambiando la natura delle cose grazie al tempo niente è mai uguale e noi non ci annoiamo mai questa è la storia del signor tempo che vi ho voluto raccontare spero vi sia piaciuta ci vediamo nella prossima lezione tanti baci e buon lavoro bambini grazie a tutti